ci siamo aspettami e e salve a tutti salve a tutti scusate un attimo un po' così allora gente che ha consegnato cose tutto bello allora allora benvenuti una puntata di questa serie su su death stranding allora quello che dovremmo fare oggi è andare a recuperare i materiali del simpaticone in questa zona qua che mi fa sono tipo rovine i sound city essendo rovine di attacchi bordelli cose varie mi sa che ci hanno bel po' di CA appresso quindi insomma ci sarà da ridere o da piangere a seconda dei punti di vista allora io non saprei mezzi non ne ho non ho mezzi manco per sbaglio ho i caricati però io qualcosa di queste io onestamente la poserei qua se c'è possibile un armadietto privato eh armadietto almeno armadietto privato qua che poso un po' di robe allora spray per casse può servirmi carico esca fumogeno io direi che lo metto nell'armadietto privato non so neanche perché allora poi qua c'è un overcarico che presto un chilo l'uno chiodi all'arampicata possono servire servire vabbè servire scusate non ho scale 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 o sacche di sangue non ho scale ossia no si non è vero ce l'ho una scala ce l'ho va bene a posto ok no 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 che annullate no no di disponere confermo poi quello che farei io scusate un attimo per per ottimizzare le robe scusate eh come si vede carico eh disponi ecco disponiamo al carico tutto più bello no 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 va bene così va bene così allora i due overcarri me li porto presso anche perché sembra che io non abbia tanto problemi di chissà che cosa eh comunque ora adesso son qui non c'è il nulla il niente il nulla cosmico e quindi devo andare facciamo la mia posizione indicatore aspetta da qui no da da me pianifico percorso almeno mi segna ok ok indicatore personizzato c2 va bene e c tua allora facciamoci sta bella camminata posta smaltimento rifiuti no caro rigattiere non mi rompe le scatole già ti sto andando a recuperare quelle robe non mi rompe le scatole allora ne approfitto di questa fase diciamo di camminata un po' così per per un discorso mentre mi sa che mi sono dimenticato ecco quindi i volumi mi hanno dimenticato per fortuna non c'era nulla da sentire ok dicevo per un discorso io vi devo ammettere una cosa e il discorso che sto facendo io è una cosa puramente personale e soggettiva non vuole essere una recensione non vuole essere un giudizio non vuole essere una cosa pro o contro chiunque chi che sia contro gli autori del gioco quel qualsiasi qualsiasi ma proprio lo dico molto sinceramente calmati lo faccelo a raccogliere ah i sali ok che ho fatto dicevo io più vado avanti più meno ci ho voglia di ecco più vado avanti meno ci ho voglia di giocarci meno meno eh vabbè non aspetto neanche che si attivi il coso tanto lo so lo so già cosa andrò incontro cioè l'ho capito a cosa andrò incontro non è che non l'ho capito l'ho capito e già piove perché una cosa che ho capito che queste eh ci ha altro non sono che persone morte che in qualche modo in qualche modo e per qualche motivo sono rimaste agganciate qua ecco al mondo e quindi cosa mi fa giustamente presumere per se dire ecca ecca là io però farei una cosa scusa eh io a sto punto rimuoverei ogni indicatore tanto ho capito spariamo la roba e la peppina e la peppina devo raccogliere tutti no aspetta era 60 kg credo diceva di kg di di roba devo raccogliere 60 kg di roba la destinazione eeeh l'ho visto ecco lì ecco lì vabbè eh sì ti capisco eh sì tu capisci noi capiamo tutte cose capiamo allora il coso indicativa il coso che saluta come uno scemo indicativa io allora qua e sono 10 infatti nel minimo alla 60 quindi lo ripiesto c'è c'è quello non so ok orta oh ok siamo calmi dove sono? ok ok io ho 20 come fai questo sono su 10 e su 30 che sono 10 alla volta si si andremo a caricarne altri vuol dire che devo caricarmene altri vuol dire che devo caricarne altri 3 mi si scatola non è che non prendo quello da 20 no 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 quello da 20 quello da 20 quello da 20 è è fammi fare una valutazione strategica no, sono leghe speciali, materiali, porca miseria, dove sono? ma ricordo che ce n'era uno lì, che l'ho già preso dai, vieni qui a giocare no, vieni qui a giocare un corno no, non mi va di giocare sono un tipo serioso non mi va di giocare del niente niente sana, mamma io io eviterei di far capire questo qua vai via 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 andiamo via andiamo via andiamo via io 60 kg li ho fatti non mi vado ad avventurare per fare altre robe andiamo via andiamo via ho pure le scarpe mi stanno consumando le cambio dopo le cambio dopo qualcuno ha consegnato robe sono contento e tutti consegnano cose io ho ma faccio mio ma faccio mio eh no aspetta no, nemmeno no andiamo ma ma porca miseria ah ah via che cazzo perché ma ti vuoi chinare perché ti alza da solo non gliel'ho chiesto io posso vedere un attimo in che direzione io stia andando ok va bene di qua andiamo via su con la calma with very very calma che ho preso cristalli sono contento va bene andiamo via io bevi po' di po' di po' di monster calzatura è parzialmente rovinata non ti preoccupa ora meccanico appena finisce la la situazione quando è che fu lontano aspetta facciamo una cosa rivalia bridges oh 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 bene mi fa piacere vedere che anche fa piacere vedere che nei ultimi aggiornamenti hanno messo hanno messo anche la la trasparenza dei pacchi per vedere il 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 cosicchiolo la che saluta che fa che dì benissimo e io e io ne potemo andare ta 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 corriere che ha fatto mi piace per scala corriere chi? quale? danneggiato autocargo e mi dispiace io non vabbè alla senti allora io devo fare un attimo una una situazione devo allora la ok a posto e adesso andiamo fortesemente andiamo no mica qua mi disposto di spostare pesi ad essere a manca non mi piace sta cosa dai su forza forza hai iniziato a usare le bozze di funzione fermo che cacchio vuoi tu e per chi sei e cosa vuoi va fermi ferma che qua ci sono qua ci sono cristalli sta tre no ma che senso abbiamo fatto ci sono cose raccoglie queste fatte no ok dicevo abbiamo fatto abbiamo fatto sta cosa abbiamo preso questi materiali e li stiamo portando alla fine tutto sommato diciamo diciamo non è stato una cosa è stato non è stato proprio agevole agevole però diciamo senza particolare bel bagno potenti termali è buon per te qua qua non mi non so non mi non proprio non è proprio l'attività poi smette di piovere proprio solo qui adesso c'è il tetto di no che è il contrario della nuova dei fantazzi vabbè comunque pena il allievo oh allora attiviamo al terminale senti un po' simpatia ti ho portato ti ho portato alle robe consegna carico seleziona consegna parziale per depositare il carico in tuo possesso e il resto quando sarà possibile se il carico consegnato soddisfa o supera i parametri no effettivamente come consegna parziale no io non non te li prendo tutti ma puoi morire male ha detto consegna almeno 60 kg io 60 kg ho preso e ti ho portato anzi sono 70 sono 70 anzi va bene così aridaie scusate intanto non c'è non ho niente che fai con la Roma con Roma però guardando falconero mi viene che cosa che cosa stai facendo sì quella si chiama Clessidra è un vecchio modo per scandire il tempo senti simpatia avevi una fidanzata scema puoi anche lasciarla lì dove secondo me potresti trovare di meglio così non mi sembra neanche questa grande bellezza onestamente sì senti abbiamo capito ti devo portare il carico e che che cosa eh mi ha finito oh diavolo sei riuscito a far uscire la merce da lì sì ci vuole fegato eh eh però è più di quanto avessi chiesto eh non male prego vabbè simpatia allora dobbiamo eh senti salta eh saltiamo tutte le cose una B addirittura uno o più robot completato ah sono contento è tutto bello però no allora eh attiva per favore saltiamo io ho preso una B volendo me ne frega niente le lettere le punteggi le cose voglio solo andare avanti dica eh 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 capito non c'ho colpa io già morta vabbò dica si sbaglia lei è in un rifugio a sud-est delle rovine posso pensarci io a fare chi cosa se non esce fuori allora non importa chi si becca tutte le sue grida furiose e credo che si sentirebbe meglio se si sfogasse con me poi poi pure dica sì 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 me lo devi dimostrare e c'è solo un modo per farlo ecco una cosa da dare alla donna che hai trovato se lei dice che è suo tu la riporti qui da me prendi anche questo è un esoscheletro che migliora il movimento e la stabilità l'ho fatto assemblando pezzi che ho trovato in giro per essere chiari te lo do soltanto perché voglio essere sicuro che non manderai a puttane questa consegna va bene se la mia ragazza è ancora viva quando vedrà ciò che porti ti chiederà di riportarla da me ok va bene ah simpatia allora va bene guardiamo il suo terminale va bene che dobbiamo fare ordini per Sam dovete fare eh sì vabbè eh ok consegna clessidra artista chirale la madre dell'artista chirale va bene vamo ok secondo il rigattiere la classidra chirale è estremamente fragile eh è meglio trasportare a mano questo genere a mano mano destra e mano sinistra posso fare la mano sinistra almeno dai che almeno da destra se ci sono le cia con la sinistra e con la destra metà eh Sam quel leso scheletro aumenta la velocità accelera il movimento muscolare di chi lo indossa eh c'è anche una funzione di sovralimentazione se devi alzare i tacchi alla svelta ma prosciugherà la batteria rapidamente eh e pensare che l'ha creato usando degli scarti ok un talento simile non deve andare sprecato va bene però equipaggia vabbò eh però se equipaggio quello io ho letto scheletro potente mi sono dici chili ah facciamo una cosa carina overcarlo senti un po overcarlo quello lo devo tenere a mano e lo teniamo a mano e che cap vabbè facciamo una cosa siccome poi dovrei staccare fare dire bordello eccetera per la prossima puntata facciamo che ci salutiamo qui per questa puntata ci salutiamo qui c'è un appuntamento la prossima puntata con questa serie su Death Stranding eh eh vediamo vediamo che cosa sarà di noi detto questo molto semplicemente saluto tutti quanti voi alla prossima grazie a tutti grazie a tutti